Molti cattolici si trovano a disagio con le mancanze percepite dell'istituzione ecclesiale. Questo è abbastanza evidente se si leggono molti blog in cui vengono numerate le mancanze di questo o di quel prelato, mancanze che spesso esistono veramente e che addolorano quando esse sono il frutto di una radicata tendenza a compiere il male. A volte ci chiediamo come sia stato possibile favorire la vocazione di persone che alla fine si rivelano dei veri delinquenti, dei delinquenti incalliti. Purtroppo, diciamoci la verità, chiunque abbia un poco frequentato le sacristie sa bene che ci sono stati seminari e ordini religiosi sull'orlo dell'estinzione e quindi in alcuni casi si è preso quello che è capitato senza vagliare troppo l'effettiva personalità di alcuni candidati. E' stato certamente un errore dettato da uno stato di necessità. Conosco un ordine religioso di origine medievale che un tempo era molto glorioso che fino a pochi decenni fa non aveva vocazioni italiane. Tutti conosciamo la crisi e tutti ci sorprendiamo e rammarichiamo delle mancanze del sistema chiesa cattolica, dei tradimenti che questo sistema inteso come l'insieme delle persone e delle strutture sicuramente dimostra. Ma se si ha fede si deve credere anche che la chiesa è mistero, mistero sopranaturale, che la parte umana è solo l'aspetto visibile di qualcosa di ben più importante e di ben più profondo, qualcosa che ci è stato donato da Dio e che lui stesso ha fondato. Se lui non è coinvolto la chiesa come sistema dovrebbe certamente interessarci molto limitatamente. Noi non dobbiamo credere necessariamente alla chiesa come sistema e aderire a questo sistema come se fosse in esso la salvezza. Quindi siamo liberi di commentare e criticare, fatto salvo ovviamente il rispetto che si deve alla dignità delle persone e alla dignità del loro ruolo. Ma questa critica però per chi ha fede non nasce dal rancore ma da una voglia di rinnovamento. E per chi vede le cose con sensus fidei questo rinnovamento non può essere che nella vera e santa tradizione. C'era una storiella che mi era molto piaciuta un po' quei anni fa che ho letto da qualche parte ma che ora mi convince molto meno. Ve la voglio raccontare. C'era un avviso al di fuori di una certa parrocchia in cui si dava notizia della morte della parrocchia stessa e si fornivano le notizie per la celebrazione del funerale. I parrocchiani, oramai non più frequentanti la loro chiesa, certamente si incuriosirono e decisero di partecipare a questa cerimonia. Al giorno e all'ora convenuta trovarono una bara al centro della chiesa, una bara che era aperta. Allora si avvicinarono e dentro trovarono una specchio. Cioè la morte della parrocchia era anche la loro morte. È una parabola anche simpatica ma va intesa bene perché la chiesa non muore perché spariscono le persone, come fosse cosa umana, come dipendesse da loro, come una loro creazione, come una società per azioni. Ma è vero che spiritualmente le persone muoiono se si staccano dalla chiesa in cui c'è la pienezza della salvezza. Ma non avevo appena detto delle mancanze del sistema chiesa? A volte queste ci portano alla perdizione, non alla salvezza. Ecco perché oggi è così difficile mantenere un equilibrio ed una giusta distanza per evitare di essere troppo coinvolti in una certa chiesa che non è più via la salvezza ma che ci spinge all'indifferenza se non all'opposizione contro la fede. Ma in definitiva noi non siamo credenti nel sistema chiesa, come ho detto, ma nella chiesa come mistero. Se non ci fosse questo aspetto faremmo bene ad impiegare meglio il nostro tempo e le nostre risorse spirituali.